Nessuno può salvarti se non tu stesso sarai continuamente messo in situazioni praticamente impossibili diventeranno continuamente alla prova con sotterfugi inganni e sforzi per farti capitolare, arrendere e o morire silenziosamente dentro nessuno può salvarti se non tu stesso e sarà abbastanza facile fallire davvero facilissimo ma non farlo non farlo non farlo guardali e basta, ascoltali vuoi diventare così? un essere senza volto, senza cervello, senza cuore vuoi provare la morte prima della morte? nessuno può salvarti se non tu stesso e vale la pena di salvarti è una guerra non facile da vincere ma se c'è qualcosa che vale la pena vincere è questa pensa ci sono pensa al fatto di salvare il tuo io il tuo io spirituale, il tuo io viscerale, il tuo io magico che canta, il tuo io bellissimo salvalo cazzo non uniti ai morti di spirito mantieni il tuo io con umorismo e benevolenza e alla fine se necessario scommetti sulla tua vita mentre combatti fottitene del prezzo fallo, fallo allora saprai esattamente di cosa sto parlando non uniti ai morti di spirito Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.